Prima abbiamo, come ho scritto anche sul blog, abbiamo chiuso pausa scena a 24.000 vincendo un colpo al 28% Poi subito prima mano dopo scena ho aperto TG a suo cappa uno short stack ha mandato resto con la suo jack ho tenuto, ho salito ancora un pochino poi ho impiato tribettato, ho floppato bene su posizione 6, il tavolo è tosto, è veramente difficile quindi ci fa un po' di aiuto ora quanto sei? 25.000 comunque perfettamente non lo possiamo giocare si ancora i VIR ti consentono gira qui si l'azione è abbastanza il profeta no, il filoso ah il filoso ecco vedete qui al tavolo c'è un all-in un 3 bet e c'è il col attenzione andiamo a vedere asso K contro 9-9 un perfetto queen flip e contro KK però attenzione solo un asso per il giocatore che non scende che non scende KK intasca tutte le fishe e facciamo 2 player out vi do un aggiornamento veloce dopo aver seguito questa mano 300-600 i VV 50 lante livello settimo di giornata abbiamo ancora i livelli da 60 minuti come tutto il day 1 e vi ricordo che verranno giocati 9 livelli in questo giorno l'everage è 41.929 quindi Udimello che prima ci ha raccontato insomma le proprie mani che l'hanno portato ad avere uno stack di 35.000 può ancora sicuramente giocare per il meglio noi ci diamo appuntamento ai prossimi video questa è un inquadratura una bella panoramica di sala noi ci diamo appuntamento per i prossimi video e vi do la rivederci anche sul forum guardate anche questa ragazza che mi è un po' distratto ci diamo appuntamento sul forum e per i prossimi video pokeritaliaweb.org ciao ragazzi